Buon salve, rieccoci Oggi facciamo una cosa un pochettino diversa dal solito perché non ho preparato una musica Allora, oggi dobbiamo parlare di Zina SubFX Solo che Zina SubFX è molto grande E fare una musica per Zina SubFX significerebbe fare una musica epica E io non lo so fare Quindi facciamo una cosa un pochettino diversa Siccome Zina SubFX è veramente enorme E non penso di volerlo spiegare come ho spiegato gli altri plug-in Perché gli altri plug-in abbiamo fatto una cosa del tipo Ok, vi spiego esattamente come funzionano Però chiaramente quello che manca è Ok, e che cosa ci facciamo però? Ora che sappiamo come funziona E allegavo giusto degli esempi In questo caso faccio esattamente il contrario Vi do prima una spiegazione generale In modo da potervi addentrare dentro l'interfaccia di Zina SubFX Successivamente farò dei piccoli tutorial nella nuova serie che ho avviato Che è quella degli esempi In cui magari spiego un po' come creare alcuni suoni Nonché ho altre cose in mente, vedrete insomma Allora, intanto per aprire un'istanza di Zina SubFX abbiamo due modi Uno è quello di andare nella scheda degli plug-in strumentali Zina SubFX e trascinarcelo qui A una cosa Se avete questa pagina piena e per un qualche motivo non potete allargarla O comunque ci sono veramente troppe tracce Un modo per inserire le tracce qua dentro trascinandole E di trascinarle sul più O sul quadrato, sullo stop Sul play o sullo stop In questo modo spunteranno Esattamente dove volete voi Quindi, a parte questo Quindi questo è un modo per aprire una sua istanza E l'altro modo è aprendo uno dei preset Qua c'è la pagina dei preset che è veramente piena Vi consiglio di darci un'occhiata Ci sono quelli con i nomi in maiuscolo Anzi Una serie di questi sono quelli vecchi Poi ci sono queste collection che hanno un po' di tutto Che vi consiglierei di guardare Nonché anche questa labba 170 bank Oliver 600 Quelli che hanno nomi strani Sono interessanti Anche questa di Mysterious Bank Qua c'ho qualche suono scaricato E dopo di che c'ho qualche suono fatto da me Comunque Prendete uno di questi E fate il vostro tasto destro O aggiungete nel sound editor Insomma Avete Tutte le possibilità del mondo Io sto registrando anche l'audio Sì, sto registrando anche l'audio Allora, punto primo Zynos VFX parte con un volume abbastanza basso E il motivo principale di questo volume abbastanza basso È che Se andate nella scheda MIDI La velocity di base viene presa a 63 Che è la metà della velocity Viceversa potete accenderlo e portarlo a 100 Vedremo perché esattamente a 100 Anche se poi lo spegnete non è un problema In questo modo evitate di Evitate di toccarlo Il secondo motivo per cui è molto basso È perché se voi entrate nella Interfaccia Che tra parentesi funziona per il momento Soltanto su Linux e Windows Purtroppo non si può modificare nulla Dell'interfaccia Su Mac in questo momento Quindi aprite l'interfaccia E spunta la vostra prima Interfaccia Una cosa Se siete su Linux Queste finestre si possono Fissare a schermo In modo che quando vi permette di nuovo Dentro l'AMS Non si chiudono Invece in questo momento Io premo su MMS E come vedete Se voglio suonare qualcosa Si chiuderebbe l'interfaccia E quindi dovete andare ogni volta A riaprirla Una cosa che potete fare Per ovviare a ciò Se non siete su Linux È di aprire la Virtual Keyboard Che si apre Premendo questo tastino Tra parentesi Ci dovrebbe essere Qualche parte Non qua Sì L'interfaccia L'interfaccia è o beginner In cui non potete proprio modificare Quasi nulla Oppure L'avanzata Che è questa qua Sto pensando Si registra Zina SubFX Sì Si registra Perfetto Ok Insomma Questa è la interfaccia Zina SubFX È l'inizio E come vedete Qua ci sono due volumi Questo è questo Come vedete Sono messi a 80 Che rende il suono Abbastanza basso Portatevi verso 95 Entrambi Ma questo è già a 95 Perfetto Aprite la vostra Virtual Keyboard E D'ora in poi Cercheremo di utilizzare Questa tastiera qua Perché se utilizziamo Quella sulla tastiera Sulla finestra delle MS Non va Niente Diciamo Si Si nasconderebbero Queste finestre Ok Perché ci sono due volumi Per un motivo molto semplice Perché Zina SubFX È fatto per gestire Fino a 16 strumenti diversi Infatti Questo numerino qua Indica proprio lo strumento E come vedete Ci sono 16 strumenti diversi Per i 16 canali MIDI In un ambiente Linux Tipicamente Quello che si fa È di connettere A Zina SubFX Una serie di strumenti MIDI Una serie di Informazioni MIDI E lui sarebbe in grado Quindi di Eseguirle tutte quante Zina SubFX È enorme Contate questo È così grande Che ha persino Delle impostazioni Per avere delle scale microtonali Che si possono modificare Diciamo in centesimi Di semitono E Solo che sull'MS Se poi è salvato il preset Non vengono salvate benissimo Ci sono anche Dei effetti Qua ci sono Quattro effetti di sistema Che possono essere Poi mandati qui Quindi se io ho un certo effetto Di sistema Metto per esempio Un riverbero Mettiamo caso Se voglio che il primo strumento Che è quello che utilizzeremo Gli altri strumenti Noi non li utilizzeremo Perché siamo sull'MS E non stiamo usando il MIDI Fa sempre riferimento al primo Se vogliamo applicare Gli effetti di sistema Basterà accendere Queste manopole Per quanto le vogliamo accendere Ci sono quattro effetti di sistema Così come ci sono Gli effetti di insertion Che possono essere inseriti Negli strumenti Al solito Questa parte ci interessa Di meno Perché noi comunque Potremmo utilizzare Soltanto la parte 1 Quindi questa prima finestra Ci si interessa Sostanzialmente Soltanto per accendere La virtual keyboard Che come vedete Ha una velocity Settata a 100 Che potete modificare Ma è il motivo Per cui poi Vi ho fatto mettere La velocity a 100 Anche dentro l'MS Perché se avete Velocity diverse Qui sentirete una cosa E poi andate sull'MS Sentirete un altro suono Semplicemente perché Cambia la velocity Zina Superfx Ha molte cose Che riguardano la velocity Possono essere disattivate Ma sono importanti In particolare Qua c'è una piccola Manopola iniziale Che vi permette Di spegnere tutta La dipendenza Dalla velocity C'è anche un offset Quindi anziché Avere una velocity Che parte da 0 E finisce a 127 Potete partire Da un altro numero Però quello importante È la sensibilità Alla velocity Avete il volume Avete il panning Per ogni strumento Avete anche un fine Detuning Per tutto Zin Ma questo vi interessa Di meno Ok E anche un key shift Quindi potete Cambiare Diciamo La nota di partenza Chiaramente qua Ci sono i canali midi Cose che vi interessano Di meno Qua ci sono dei controlli Che lascio a voi Lo studio E sostanzialmente Vi permettono Di modificare Il comportamento Del portamento Se voi attivate Il portamento Dell'interfaccia Dell'MMS Quando cambiate nota Ci sarà un piccolo slide Tra una nota e l'altra E la velocità Di questo slide È data da questa Manopola time Le altre manopoli Sono un pochettino Più complicate E riguardano sempre Le manopoli Dell'AMS Per lo più Ok Adesso accendiamo Lo strumento vero e proprio E cerchiamo di dare Un attimo Uno sguardo All'interfaccia Zinus Contiene qua Delle informazioni Sull'autore Che potete scrivere Dei commenti Che potete scrivere E potete anche Inserire il tipo Del vostro strumento Ci sono un pochettino Tutti i tipi Che vedete Nei preset Dell'AMS Che sono i preset Di Zinus Vengono Con Zinus Vengono Ora I tre synth principali Che sono Dentro Zinus VFX Si chiamano AddSynth SubSynth E PathSynth AdSynth AdSynth è un sintetizzatore Additivo Che permette di fare Miliardi di modulazioni Vedremo bene Dopo cosa sono SubSynth Invece è un sintetizzatore Sottoattivo Abbastanza semplice Ma efficace PathSynth È un sintetizzatore Proprio Creato da PovNasca Che è lo sviluppatore Principale Zinus VFX E che permette Di creare dei suoni Tipo pad Attraverso la creazione Di campioni Di qualche secondo Che vengono Perfettamente Luppati È una cosa Molto particolare Molto complicata Infatti La vedremo Molto brevemente In questa finestra È importante Notare una cosa Gli strumenti Possono essere Attivati tutti e tre Così come Attivato sono Soltanto O due Insomma Potete decidere Quali strumenti Attivare E ci sono Questi due pulsantini Kit Edit E effetti Effetti Sono degli effetti Che sono Attivati Sono tre effetti Disponibili Per il vostro strumento Sono soltanto Tre Vero Insomma Ci sono Anche delle impostazioni Ci sono Un riverbero Un echo Un sorus Sono tutti Abbastanza validi Anche il phaser È abbastanza valido L'alien wire La distorsione Mi piacciono Un pochettino di meno L'equalizzatore Grafico Interessante E potete Modificare Le bande Non in modo Troppo grafico Però con delle manopole Ma avete Una risposta Grafica E poi c'è C'è anche Questo Dim filter Che non ho mai Esplorato Però insomma Sono alcuni effetti Chiaramente potete Utilizzare gli effetti Dell'AMS Senza bisogna Adentrarvi E studiarvi Questi nuovi effetti Tutti gli effetti Possono essere Beh passati Possono essere Copiati Sulla clipboard Non potete copiare Su preset Scrivendo un nome Potete copiare Soltanto sulla clipboard E possono essere Poi incollati Dalla clipboard Clipboard È quello che succede Quando voi Premete Control Cino Viene salvato In una memoria Del sistema Che si chiama clipboard Ok Quindi chiaramente Se copiate Più cose Nella clipboard L'unica Che potete incollare Sarà l'ultima Ok Questi sono gli effetti Ma importantissimo C'è questa piccola finestra Che vi permette Di modificare Lo strumento In modo ancora Più interessante Perché quello Che noi modifichiamo Da queste tre Synth È soltanto Il primo Di 16 Possibili strumenti Che si vanno a sommare Tra di loro Si possono sommare E si possono anche Limitare nella tastiera Ciò posso decidere Se metto qua Modalità multi Io posso decidere Che lo strumento 1 Questo qui Suona Dalla nota 0 Fino alla nota 20 Lo strumento 2 Suona alla nota 20 Fino alla nota 21 Magari Fino alla nota 40 E così via Così come posso Metterli uno sopra l'altro Sommandoli Insomma Ci siamo spiegati Quando spegnete questi I strumenti vengono cancellati Se non volete cancellarli Avete soltanto Metterli in muto C'è il tastino muto Ok E questo era Il kit edit Questo è molto importante Se volete fare cose Tipo percussioni Perché così potete avere Percussioni diversi In vari post E poi magari vi faccio vedere Quello che stavo cominciando A fare io Bene Esporiamo un attimo Proprio in modo Proprio veloce Ho scritto quasi La stessa cosa qui In modo veloce Ad synth Sub synth Pad synth Dunque Forse Diciamo Le finestre Cominciano ad essere Un pochettino Tante Io comincio a chiuderne Qualcuna Ci interessa sempre Avere La nostra virtual keyboard Nel caso in cui Volessi fare sentire qualcosa Ma non sentiremo Troppe cose Come vedete qua Abbiamo un'ampiezza Che è settata a 90 Quindi anche qui C'è una piccola componente Di deamplificazione Presente E la sensibilità La velocity Di tutto L'ad synth E abbiamo il panning Abbiamo un inviluppo Di ampiezza Un LFO Di ampiezza Quindi potete fare Una sorta di tremolo Abbiamo un filtro Che può essere Di vari tipi Può essere un filtro Tipo analogico Che sono come i filtri Che abbiamo dentro L'AMS Abbiamo anche un altro Tipo di filtro Che non so bene In cosa consista C'è una informazione No Oppure c'è il filtro A formante vocale Filtro a formante vocale Che vi permette Di applicare Un filtro a formante vocale Se sapete cosa sono I formanti vocali Sono quelle che Diciamo Dato un treno d'onda Vi permettono Di creare un suono Che assomiglia A della voce A delle vocali Sostanzialmente Se non sapete Come funziona Non lo so benissimo Neanch'io Quindi Però potete cambiare Il numero di formanti E per ogni vocale Per ogni formante Potete cambiare la vocale Insomma No scusate Per ogni vocale Abbiamo una serie di formanti Ogni formante Può essere modificato Insomma Ci sono varie cose Anche questo C'è un piccolo Copia e incolla Qui accanto Quindi potete avere Più filtri Che hanno lo stesso Tipo di formante vocale O magari simile C'è un inviluppo Del filtro E c'è anche Un LFO Del filtro Abbiamo finito Con gli LFO No Non abbiamo finito Con gli LFO Perché abbiamo Anche la frequenza Con un piccolo detune Uno spostamento Di ottava E una bandwidth Una larghezza di banda Non mi ricordo Benissimo cosa fa Possiamo cambiare Il tipo di detune Nota Una cosa Se vi cambiate questo E poi dite Oh Non riesco più a tornare A 00 Come faccio? Semplice Se ve lo premete Lui diventa Diciamo Ci sono dei piccoli pixel Colorati Con le freccette Ve potete modificare Tenere premuto E potete tornare Velocemente Verso Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 Ok Siamo tornati Allo 0 Abbiamo un inviluppo Di frequenza Sapete che vuol dire Un inviluppo Di frequenza? Ve lo faccio vedere subito Per il momento Questo starting value È messo come dovrebbe essere Io metto un attimo Il volume in alto Troppo in alto Non si sente benissimo Perché è una sinusoide Ok Adesso io metto Il valore di inizio Più in alto Oppure lo metto Più in basso Non so se mi spiego Questo è? Oh Sì certo Gli inviluppi hanno anche Una piccola finestra Ovviamente Come potevate Tutti gli inviluppi Tutti gli inviluppi Tutti gli LFO Hanno anche uno stretch Cosa fa questo stretch? Lega La velocità Dell'inviluppo O dell'LFO Alla nota Quindi Se questa cosa È messa a metà Così come è messa Note più gravi Avranno un inviluppo Più lungo Di le note più acute Se invece Mettete a zero Tutte le note Hanno stesso inviluppo Se lo mettete al massimo Il suono è veramente snaturato Per come è messo così Il suono è abbastanza naturale Però se vi serve avere qualcosa Tipo un LFO Che va a tempo O magari degli inviluppi Che tra le varie parti E gli strumenti devono essere In un certo modo Allora vi conviene disattivarlo Ci sono delle altre impostazioni Ma non mi dilungo troppo In tutto questo Abbiamo anche una piccola tabella Per la risonanza Per gli esperti Io non sono un esperto E non la so usare Nel senso che So più o meno quello che fa Però non so usarla Abbiamo un copy and colla Generale di tutte le impostazioni Nello strumento E abbiamo una Lista di voci Dite voi Perché dobbiamo avere Una lista di voci E' molto semplice Perché ci sono otto voci Sì possiamo avere Otto sintetizzatori diversi Otto Oscillatori Chiamiamoli Ma in realtà Sono otto coppie Di oscillatori Vedremo tra poco perché Che hanno ognuno Il loro volume Hanno ognuno Il loro pounding Hanno ognuno Il loro Resonance Hanno ognuno Il loro detune Hanno ognuno Il loro Il loro profondità Di vibrato E' difficile fare traduzione Mentre si parla Bene E questo era giusto Per vedere le voci Presenti Che possono essere attivate Disattivate E il volume viene accordato In seguito Nel senso che Il programma si Prende nota Del fatto che ci sono Tre strumenti Quindi deve abbassare I volumi di tutti Per avere un volume generale Che è quello definito qua Bene Parametri delle voci Non abbiamo finito Con le finestre Se ne sono anche Altre infinite Ogni voce Ognuna delle 8 voci Può essere attivata Disattivata Ha un suo Inviluppo di Ampiezza Simile a quello di prima Che può essere attivato Disattivato Un suo filtro Che può essere attivato Disattivato Inviluppo del filtro LFO del filtro Frequenza Inviluppo di frequenza LFO di frequenza Può essere settato A 440 Hz Questo è importante Quando fate percussioni E volete degli strumenti Che sono sempre La stessa frequenza In realtà 440 Hz È solo indicativo Perché se poi Cambiate l'ottava Saranno 220 110 Eccetera Questo è quasi tutto Queste sono impostazioni Simili a quella Che abbiamo visto qua Ma non è finita qui Perché ogni oscillatore Chiaramente può essere impostato E queste impostazioni Sono date da una fase Dall'oscillatore Se qua sta dicendo Utilizzare un oscillatore nuovo Sostanzialmente Può essere messo del rumore Oppure potete cambiare Questo oscillatore Lo vediamo tra due secondi Inoltre abbiamo anche Le impostazioni di unisono Che permette di aggiungere E simulare Fino a 50 voci Uguali a questa qua Che però hanno Una frequenza Un pochettino diversa Per un massimo Di 44 centesimi O di quello che settate voi Di semitono Di differenza Con una Randomicità di fase Quindi una Casualità di fase Una casualità di stereo Una casualità di vibrato E di velocità del vibrato E abbiamo anche Questo invert Che non so esattamente Cosa faccia Però buh Voi bastate Mettete qualcosa tipo 12 E ottenete un sonno bellissimo Ok Proviamo a cambiare Il nostro oscillatore Il nostro oscillatore È definito Da un piccolo Sintesatore additivo Che contiene Fino a 128 voci Di sintesi additiva Che la forma Di base Può essere O la semplice Sinusolide Come al solito Oppure un'onda triangolare Per triangolare Si intende Che qua c'è un piccolo parametro Che può essere modificato E potete passare Dalla triangolare Fino all'onda quadra Se mettete il volo in mezzo Ottenete un trapezio Questa che vedete sopra Sono sostanzialmente Gli armonici Quindi diciamo che Qua per esempio L'onda quadra Siccome contiene questo picco Contiene un sacco di armonici Mentre l'onda triangolare Che è molto più simile Alla sinusoide Contiene meno armonici Dopo la triangolare C'è anche l'onda impulso Che può avere anche Una piccola modifica Della larghezza Dell'impulso E' un'onda quadra Sostanzialmente Poi abbiamo L'onda denti di sega Che sembra un'onda triangolare Fin quando Voi non cambiate il parametro Io metto il parametro base Sempre a zero Così è come lo vedete voi Poi un'onda A potenza Sono varie onde Gauss Non so Una sinusoide Strecciata Ce ne sono infinite Qua sulla sinusoide Non c'è nessuna modifica Perché è giusto Se sia così Abbiamo anche Un piccolo filtro Quindi per esempio Se noi prendiamo L'onda a dente di sega E applichiamo Un filtro low pass Come vedete Viene applicato proprio Un filtro Torniamo alla sinusoide Qua ci sono Delle altre impostazioni Con cui potete divertirvi Una volta che avete scelto La vostra onda di base Potete cambiare La sommatoria di armonici Quindi potete aggiungere Appunto fino a 128 armonici Quindi sono suoni Che hanno Multipli della frequenza E potete anche Cambiare la fase Di ogni armonico L'ampiezza generale L'ampiezza generale Viene normalizzata E se volete pulire C'è questo Se volete tornare Alla sinusoide C'è questo E ci sono alcune Armonici Adattati Insomma Ci sono altre impostazioni Comunque Sostanzialmente Noi per esempio Mettiamo questa E possiamo decidere Di utilizzare Come base Quindi abbiamo fatto Una nostra forma D'onda Qualsiasi E adesso La stiamo utilizzando Come base Quindi possiamo Aggiungere armonici A partire da questa qua Bene Vediamo come suona Questa cosa Bene Molto brutta Direi di tornare Alla nostra sinusoide Facciamo un'onda Antisega Tranquilla Magari un piccolo Filtrettino Passa a base Perfetto Abbiamo la nostra Forma d'onda Faccio sentire Qual è l'effetto Dell'unisono Metto 50 Di unisono Molto bello Togliamo l'unisono Ehm Ops Ho premuto Ho chiuso La tastiera Eccola qua Tutta questa cosa Tutto molto bello Abbiamo anche Un secondo oscillatore Che ci permette Di modulare Quindi possiamo Avere una modulazione Di fase Tipicamente E con delle impostazioni Tra cui anche L'inviluppo di frequenza L'inviluppo di ampiezza Quindi possiamo Fare una cosa Di questo tipo Insomma Si possono fare varie cose Anche questo Può essere modificato Tale quale a quello Eccetera Eccetera E questa era per una voce Possiamo avere la seconda voce La cosa bella La seconda voce È che possiamo utilizzare La prima voce Come oscillatore iniziale Oppure anche come Modulazione esterna Quindi possiamo decidere Che il primo Oltre ad essere suonato Modula anche il secondo Bene Questo chiaramente Significa che l'ottavo Può essere modulato Dai primi sette Eccetera Quindi sono 8 oscillatori intermodulabili Se vi ricordate Il fatto che possiamo Modificare un kit Di strumenti Fino a 16 strumenti Significa 8 per 16 Oscillatori Di synth Additiva Intermodulabile Bello Molto interessante È enorme Questo strumento Vi dico che è Semplicemente enorme Non c'è VST Che può coprire Le cose Coprezina Superfax E questo era Se non sbaglio Tutto il synth Additivo Passiamo adesso Al synth sottrattivo Se questo era Soltanto lui Synth sottrattivo È molto molto più Semplice Cosa è la synth Sottrattiva Significa Che viene generato Del rumore bianco E viene super filtrato Proprio con un filtro A notch No Un filtro Come si chiama Un passabanda Strettissimo Su i vari armonici Quindi posso decidere Il primo Il secondo Il quarto armonico E il sesto armonico E siamo pronti Per la messa Di ogni oscillatore Questa volta Non abbiamo la fase Ma abbiamo La larghezza di banda Del filtro No? Perché? Avvento un pochino di volume Eccetera eccetera Chiaramente su questa tastiera Potete utilizzare Anche la tastiera del computer Giusto per dirvelo La tastiera del computer Si utilizza con la parte Querti Che decide Questa ottava E con la parte Z X C V Eccetera Che gestisce Questa parte qua Di questo strumento Abbiamo l'ampiezza generale L'inviluppo di ampiezza Abbiamo la larghezza di banda L'inviluppo di larghezza di banda Abbiamo anche la frequenza L'inviluppo di frequenza Abbiamo gli overtones Come quelli che avevamo Nel synth additivo Però insomma Non li avevo spostrati benissimo Abbiamo anche un filtro Con il suo inviluppo E questo è il synth sottrattivo Abbiamo finito Con il synth sottrattivo Tranquilli E' stata una cosa molto veloce Poi abbiamo il synth pad Synth pad fa una cosa Un pochettino diversa Cioè Abbiamo il nostro synth additivo Quindi possiamo decidere Una certa forma d'onda Ma ogni armonico Ha questa distribuzione Di frequenze E Dopo che fate le vostre modifiche Siccome lui deve generare Un campione Dovete cliccare su questo Apply changes Abbiamo una certa Larghezza di banda E Ragazzi Questo qua E' proprio difficile Da capire come synth Io stesso Ho molta difficoltà A concepirlo Ho messo una bruttissima Questa risonanza Una bruttissima Tredicesimo armonico Mettiamola così Quando utilizzate strumenti Che sono già molto ricchi E' meglio Se vi tenete su armonici Che sono almeno numeri pari Già Diciamo Quelli Già dovrebbero andare meglio Apply In due clic Avete fatto un piccolo pad Chiaramente qua ci sono tutti Gli inviluppi Che vogliamo noi Inviluppo di amps Inviluppo di filtro Inviluppo di frequenza E questo dovrebbe essere Tutto zina sub effects E' stato giusto Un 20 minuti Di spiegazione iniziale No veramente Ci sono infinite impostazioni Che ho ignorato Per esempio Qua ci sono La distribuzione Le frequenze Possono essere modificate Perché questa è una frequenza Di gauss Potrebbe essere Ragazzi Ce ne sono infinite di cose E questo è tutto Prima o poi Vi farò qualche tutorial Su come creare Qualche suono interessante Con zina sub effects Però questo è giusto Per capire Se voi già sapete Utilizzare qualche synth Aprite zina sub effects E buttate tutti i VST Che avete Perché veramente Si può fare di tutto Di tutto Veramente di tutto Alla prossima signori